Nella rassegna generale degli oggetti vintage ho deciso di far vedere anche questi foglietti per la pulizia degli obiettivi che erano prodotti dalla Kodak e non si trovano ovviamente più in commercio erano 50 foglietti che si aprivano in questa maniera ed erano collocati all'interno vedete sono molto fini e servivano appunto erano prodotti della Kodak per pulire gli obiettivi della macchina fotografica introvabili sicuramente in questa condizione questo pacchetto è nuovo vedete che venivano venduti in pacchetti da 50